Ragazzi, ci siamo. Oggi si fa la storia del fantacalcio. Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Ebbene sì, ci siamo. Oggi file Excel regola del 72. O, come lo voglio chiamare adesso, analisi del trend. Che è, diciamo, forse più corretto visto come si è evoluto il fantacalcio in questi anni. E vi esorto assolutamente, ragazzi, un bel like. Like come supporto a questo file, a questo lavoro che c'è dietro. Commenti qua sotto con la vostra opinione. Ringrazio Mattia e Smilo che mi hanno dato una mano a realizzarlo. Mattia veramente si è sbattuto tantissimo per realizzarlo e accontentarmi nelle mie pignolerie. Ok, lo sapete come sono un po' pignolo a volte. Però abbiamo realizzato qualcosa di veramente utile, oltre che figo. E adesso lo andremo a vedere. Il file è già disponibile, ragazzi. E lo trovate nella sezione news di tipi. Ok, sbloccabile con un tip. Io ringrazio veramente tutti coloro che stanno credendo in questo progetto e che capiscono che non è un progetto che fa il file Excel l'estate. Ciao, arrivederci, ci vediamo il prossimo anno. Non è così, ragazzi. È un progetto serio che funziona praticamente ogni giorno, tutto l'anno. Siamo qui a lavorare, a sviluppare sempre nuovi strumenti, divertirci anche perché questa passione del fantacalcio dà sempre nuovi stimoli, nuovi spunti. Quindi trovate su tipi nella sezione news il file a disposizione, ragazzi. Che cos'è? Per chi magari è nuovo del canale. Molti mi hanno detto, Carmi, ma perché hai copiato la regola del 72 da Candarini? In realtà, ragazzi, dovete conoscere un po' la storia. Candarini non ha inventato nulla. È un concetto di base del fantacalcio che va avanti da anni. Io ne ho parlato già, infatti, nel 2017, ragazzi. C'è un video di maggio 2017 che vi avevo spiegato come avevo vinto al fantacalcio tramite anche questa regola. Anche grazie appunto a questa regola. Cioè, che in cosa consiste la regola del 72? Analisti appunto del trend, come l'ho chiamato. Si va ad analizzare il trend di un giocatore, quindi il suo rendimento nel breve periodo, quindi di un mese. Noi analizziamo nello specifico 5 giornate, ok? Per capire se appunto quel giocatore conviene effettivamente schierarlo perché è in forma e può rendere quindi meglio di un giocatore invece che magari più forte come nome, ma completamente fuori forma, ok? Spesso questa cosa viene sottovalutata e molti continuano magari a schierare giocatori fuori forma solo perché hanno un nome altisonante. Attenzione perché statisticamente questa regola ti porta dei risultati migliori, ok? Quindi occhio. Ora, il concetto della regola del 72 si chiamava così perché la maggior parte del fantacalcio, ok? utilizza Soia a 6, diciamo, ok? Quindi 6 punti, quindi a 72 scattava il secondo gol che ti permetteva di vincere statisticamente un gran numero di giornate, un gran numero di partite e quindi portarti più facilmente a casa la vittoria, quindi il fantacalcio. Ora, il fantacalcio si è evoluto un po', i bonus sono aumentati, causa calcio di rigore, 5 sostituzioni e così via e quindi magari sono aumentate anche le medie voto grazie anche ai modificatori, le fasce goal sono diversificate un po' di più, quindi possiamo chiamarla appunto analisi del trend piuttosto che magari regola del 72. Adesso, come abbiamo realizzato questo file? Abbiamo cercato di creare un po' tutto sia automatizzato ma più generale possibile utilizzabile praticamente da tutti i fantallenatori. Però, ovviamente, come database abbiamo dovuto fidarci ad una redazione, ci siamo fidati a quella più utilizzata che è appunto fantacalcio.it. Quindi, adesso vi vado a mostrare il file e vi vado a mostrare anche come utilizzarlo nello specifico, anche se il file è già ben descritto, come vedete appunto, vi si aprirà anche una finestrella che vi spiegherà i vari fogli, in basso, come vedete, ci sono tanti vari fogli, ok? Tutti molto utili e adesso vedremo come va utilizzato. Innanzitutto bisogna fare una compilazione giornata per giornata dei voti, del database di voti, perché è quello che il file va ad analizzare. Come si fa? Come vedete c'è un link qui, www.fantacalcio, quello per le valutazioni. Dopo che ci cliccate vi si aprirà praticamente la pagina delle valutazioni, ok? Dei voti di fantacalcio. Qui dovrete cliccare, c'è scritto tutto, è scritto bene nel file, ringrazio ancora Mattia per la pazienza nel riguardo, anche Smilo. Basta fare CTRL U e vi si aprirà questa finestra, che ad alcuni farà confondere, ma non dovete cliccare nulla qui. Dovete fare semplicemente CTRL F per cercare TV Stamp. C'è scritto anche nel file, quindi potete fare semplicemente il copia e incolla. Cercate TV Stamp e via accanto vi apparirà questo codice. Ok, lo selezionate, fate CTRL C, lo copiate. L'importante è che quando poi lo copiate all'interno qui del file, aspettate che devo aprire adesso il file, perfetto. In alto a sinistra, o meglio qui sotto, ok, vedete la prima cosa da inserire è appunto il codice della giornata. Quindi andate qui, fate tasto destro, attenzione, io vi consiglio di cliccare applica formattazione di destinazione, altrimenti vi sballo, magari perché vi copia il carattere precedente. Ok, in questo modo vi avrà già importato, ad esempio adesso, la settima giornata. Ok, vi importerà la settima giornata. Basta fare 7, qui, giornata da importare 7. Cliccate aggiungi voti, ultima giornata e il file adesso si va ad aggiornare. Quando, attenzione, vedete, adesso non so se da voi è visibile, non è visibile, vi apparirà una finestra, ok, che vi chiederà livelli di privacy. Voi impostate pubblico, ok, nel menu a tendina e fate salva. Dopodiché il file funzionerà tranquillamente, ok. Basta mettere punto pubblico. Detto ciò, adesso vi mostro come funzionano invece gli altri fogli. In questo foglio, comunque, di database, voi potete anche modificare i bonus. Ad esempio, per i rigori, se avete i rigori che valgono diversamente, quindi un rigore vale più 2 e così via, potete andare a modificare addirittura i bonus, ragazzi, cioè non so se mi spiego. Ok, se avete il gol vittoria, il gol pareggio, potete modificare praticamente di tutto, anche questo, cioè, ok. Adesso andiamo a vedere, vedete, vi ha già importato, vedete, quello verde si modifica automaticamente, solo quello salmone voi dovete impostare per cliccare il tasto blu e vi dice ultima giornata importata a 7. Quindi se noi andiamo adesso a vedere le rose, andiamo nel foglio rose, ad esempio, e qui possiamo importare le nostre rose. Ho messo ben 4 slot, per chi fa più fan da calcio, può praticamente impostare 4, preimpostare 4 rose, salvare il tutto, e poi da qui, da dove c'è, sotto aiuto, potete impostare rosa 1, rosa 2, e vi andrà a cambiare le rose. Vi faccio un esempio, vado ad incollare adesso le mie rose all'interno, ad esempio qui c'avevo un altro file. Ok, seleziono tutto, incollo, valori, vedete, e qui mi si copiano praticamente tutti i valori. Un attimo che mi copio anche la seconda. Perfetto, lo sto facendo proprio in diretta con voi per farvi vedere come funziona il tutto. Vedete, adesso abbiamo due praticamente rose. Ok, ci siamo. Abbiamo due rose praticamente e possiamo switchare da una all'altra. Ok, se vogliamo far analizzare la prima rosa, mettiamo la rosa 1 e ci analizzerà la rosa 1. Mi raccomando, i nomi devono essere inseriti come da redazione fantacalcio.it, ma se non sono inseriti bene, facciamo un esempio, sbaglio a scrivere, scovolse, vedete, me lo segnala in rosso perché è scritto male. Ok, è tutto spiegato comunque nel file qui sulla destra. Semplicissimo ragazzi, finora, questa è l'importazione della vostra rosa. Ok, abbiamo selezionato la rosa 1. Adesso andiamo a vedere gli altri fogli. Voti rosa, cosa fa? Praticamente prende la rosa che abbiamo selezionato e ci va a dire le ultime 5 giornate che valutazioni hanno preso quei giocatori. Ok, ad esempio, consigli e ci dice che complessivamente, quindi il fantavoto ci dice, ok, preso 5, 5 e mezzo, 4 e mezzo, 6 e mezzo e 3. Ok, attenzione però. Qui dobbiamo impostare l'ultima giornata da analizzare, quindi mettiamo ad esempio 7, ok, e lui ci va ad analizzare l'ultima, cioè ci prende le ultime giornate, perché io posso anche analizzare periodi precedenti. Ok, volendo. Si può fare anche questo. In giocate spuntano praticamente quante partite quel giocatore ha giocato sulle 5 che andiamo ad analizzare. Mentre media voto e fantamedia ovviamente fa la media di queste 5 giornate. Nella deviazione invece vi fa capire quanto si è distaccato, ok, il giocatore dalla media. Ok, soprattutto il range minimo e massimo vi considera quindi quanto effettivamente, considerando la diviazione, questo giocatore vi può portare a livello di mediamente, ok, ogni giornata, in questo periodo, in questo periodo. Quindi cosa va a fare? Qui comunque è spiegato anche nel dettaglio, ok, va a prendere la fantamedia e gli va a togliere o sommare la diviazione per fare il range minimo e massimo, ok? Poi qui abbiamo inserito oltre al ruolo classico anche il mantra, per chi magari fa il mantra avrà la doppia analisi. Adesso viene il bello, ragazzi, perché questo finora non l'ha di che, è solo un accumulo dati, li possiamo osservare stop. Ma il bello viene adesso, ragazzi, con la creazione delle formazioni. Guardate qui cosa abbiamo, ragazzi. Un capolavoro, un capolavoro. Nella parte in alto, un po' come l'anno scorso, abbiamo messo tutti i giocatori con fantamedia, media voto e partite giocate, ok, della nostra rosa. Quindi abbiamo tutta la nostra rosa già con i vari dati. Ma nella parte in basso possiamo andare ad inserire praticamente la nostra formazione, ok, ogni giornata andiamo ad inserire la formazione, ma addirittura sulla parte destra abbiamo anche delle formazioni preimpostate. Cioè, quell'ultima destra, ok, quella consigliata, ci dice che con questa rosa dovremmo schierare al momento un 433 ed ottenere mediamente una media totale del 74.8, che però può oscillare tra un 66.5 e un 83.1, ok, a livello di fantavoto totale. Va bene? Ora, questo perché? Perché lui va a considerare, come detto, un minimo di tre partite giocate nelle ultime cinque, quindi almeno tre volte deve essere andato a voto il giocatore, e ti va a considerare quindi la sua costanza. Ora, ovviamente voi potrete valutare anche alcuni confronti, ad esempio qui c'è il 433, potete valutare, ad esempio io dico, ma sai, la mia rosa ha reso bene anche con il 352, ad esempio, vedete, vi viene comunque un 74.4, vi dà i nomi migliori per schierare un 352, oppure dite, guarda, vorrei vedere col 343 cosa mi viene fuori, ok, visto che non c'è modificatore, e vi spunta anche il valore, ad esempio, del 343, e vi dice che vi viene un totale di 74.1, ok? Adesso però voglio fare un esperimento con voi, cioè o meglio, vi voglio mostrare anche una cosa molto figa. Se noi andiamo ad esempio ad inserire, ecco, vedete qui c'è il 433 consigliato, vi dà automaticamente la media voto, considerando i vostri 4 difensori che andate ad inserire. Questo cosa significa? Che voi potrete poi qua, in basso, a destra, ad esempio, queste comunque qui potete compilarle manualmente, ad esempio, io vado a mettere consigli, vado a mettere ad esempio, Danfries, ok? Vediamo una formazione, ad esempio, che potrei mettere spesso, Anzaldi, vado a mettere, e Zappagosta, ok? Metto questa bella, scusate, non vigna, Zappagosta, ok? Queste sono le loro valutazioni medie, ok? Delle ultime giornate, e le loro fanta medie. Poi posso andare a impostare, ovviamente, il mio centrocampo con Milingovic e Savic, ok? Lo sto facendo tutto insieme a voi, proprio per farvi vedere al meglio come funziona il tutto. Poi ci vado a piazzare, ovviamente, Verretù, poi ci andiamo a piazzare Barak, che è la mia formazione, l'11 tipo sto mettendo, ragazzi, ok? Barak, e poi ci andiamo a piazzare con il menu a tendina, forse il menu a tendina voi non lo vedete, ragazzi, ma c'è il menu a tendina, ok? Attenzione a Soriano, ora Soriano ci servirà abbastanza per questo esperimento. Poi andiamo a piazzare il nostro Ozyman, il nostro, dov'è? Dov'è? Lo Zano, e proviamo con Unilicic. Ok? Questo è il totale che mi viene fuori, vedete? 75.1, che non è male, anzi, è leggermente superiore a quello consigliato, perché, attenzione, quindi quello consigliato in teoria tiene conto della deviazione, ok? Quindi cerca di ridurre il più possibile magari la deviazione. Va bene? Ad esempio, se vedete, infatti, lì mi viene 84.5 di massimo, quindi più alto, ma 65.7 di minimo, quindi mi dice che rischia anche di non arrivare al 66, ok? Quindi capite come funziona? Quindi, mentre quella consigliata cerca di ridurre il più possibile la deviazione. Chiaro? Ovviamente, attenzione, perché la formazione consigliata non tiene assolutamente conto delle partite che ci sono quella giornata, quindi non dovete effettivamente schierare quella formazione. Però, se avete un dubbio tra due giocatori, schierate la formazione qui, o in formazione 1, o in formazione 2, e le confrontate. Ad esempio, capito, io posso mettere questa formazione, la copio e la incollo qui, guardate, faccio incolla valori, io vi consiglio sempre di fare così, incollate valori e dico al posto di Soriano, ok? Ci vado a piazzare, magari, un difensore, voglio vedere cosa succede, se vado a mettere, ad esempio, oppure un altro centrocampista, magari un Vidal, per dire, ad esempio, mi viene un altro valore, ok? Mi viene un po' diverso, magari, vado ad inserire, non so, un... vediamo che centrocampista avevo, tra ore, forse, una media leggermente superiore, ecco, tra ore e contro ore mi viene migliore rispetto a con Soriano, per dire. Ma, quello che volevo farvi sottolineare, anche, è, con il discorso modificatore, vado, ad esempio, a prendere, ad esempio, l'Aina, ok? Facciamo finta che metto... non importa l'ordine, ragazzi, vi considererà direttamente poi il ruolo. Ok, vedete, qui subito scatta la media voto. Mi dice, media voto 6,34. Molto buona, cioè, consigli più Danfri, Sansaldi, Zappacosta e online, viene una media voto, in questo periodo, molto buona, 6,34. Significa che, se avete il modificatore a 6 fasce, tipo, comunque, con 6,25 che vi scattano 2 punti, io, ad esempio, qui posso andare ad ipotizzare 2 punti di modificatore, ok? Se avete, non so, l'imbattibilità, se avete un bonus capitano, potete ipotizzare altri bonus, qui dove c'è bonus extra, ok? E potete vedere il totale. Quindi, vedete, poco fa mi veniva 75,4, ma sommandoci i due punti di modificatore che mi dovrebbero scattare con la media del 6,34, mi viene 77,4, ma può oscillare tra un 68,1 e un 86,6, ok? Questo è il calcolo che va a fare, considerando anche le deviazioni. Quindi, il range minimo e il range massimo. Tanta roba, ragazzi, tanta, tanta roba. Quindi, voi, qui, addirittura, quelle consigliate, le potrete poi provare. Vedete, vedete, 4,4,2, mi viene, vedete, lui stesso, guardate, ecco, la difesa che mi consiglia è proprio quella, con Ansaldi, online, Danfri, Zappacosta, quella che ho provato ad inserire qui, ok? Quindi, vi dà direttamente quella con la miglior difesa a livello di punteggio, ok? Che vi fa scattare un 6,34, quindi potete mettere già due punti di modificatore. Capite come funziona? Ovviamente, quella consigliata considera la deviazione. Se vado a mettere, ad esempio, un 4,33, vediamo cosa ci consiglia col 4,33. Eh, vedete, viene 74,8, ci consiglia praticamente un Barak, vero? Tu addirittura qui toglie Milinkovic, ovviamente, voi Milinkovic non lo toglierete, non avrete il dubbio di mettere o non mettere Milinkovic, però vi dice che, paradossalmente, nelle ultime giornate, determinati giocatori hanno una fantamedia magari migliore rispetto agli altri. Ovviamente questo è da fixare per bene, ragazzi, anche perché, ad esempio, in teoria Milinkovic, 6,7, dovrebbe metterlo, in teoria, al posto di Trore. Forse considera, in questo caso, la deviazione. Questo è da correggere, ragazzi. Quello che vi consiglio io è basatevi più sulla costruzione manuale. Questa automatica la correggeremo piano piano. È da controllare, perché, ad esempio, vedete, in questo caso, Milinkovic, in teoria, lo dovrebbe inserire al posto di Trore. Però, siccome considera, forse, la deviazione, la costanza, può essere che ti consiglia di più Trore, perché è più costante. Però, ovviamente, Milinkovic l'avrebbe dovuto inserire. Sistemeremo anche questo. Vedete, si migliora sempre di più. Però considerate, ragazzi, che già i valori che vi dà vi permettono di studiare bene la vostra formazione. Non è finita qui. Scusate, poi, allora, qui, a livello di partite giocate, potete anche fare dei... Ci sono dei filtri, ok? Anche qui potete inserire un filtro. Cioè, vi potete dire, guarda, mi devi mettere giocatori che hanno giocato almeno quattro partite. Ok? Mettete qui, o anche cinque, ad esempio, e lui vi va a selezionare i giocatori con almeno quel numero di partite giocate. Se mettete cinque, vedete, qui sparisce qualche giocatore, inserisce Milinkovic e Savic e così via. Quindi, tutto va a considerare, lui, le partite giocate. Ok? Col 4-3-3, ad esempio, non mi viene fuori perché non ho abbastanza attaccanti che hanno giocato cinque partite su cinque. Quindi devo andare, ad esempio, a mettere un 3-5-2. Vediamo, vediamo. Proviamo un 3-5-2, me lo riesce a schierare tranquillamente. Ok? Capite come funziona? Si può spulciare, poi faremo comunque qualche live per spulciarlo meglio. Quindi, quindi, media voto, qui dove c'è la casella zona color salmone, andate ad inserire i punti modificatori che dovreste fare con quella media voto in base al vostro regolamento. Bonus extra, inserite i bonus che dovreste fare con il, magari se avete capitano, bonus rendimento, altri bonus particolari. Andiamo negli altri fogli. Qui abbiamo il trend giocatore e possiamo praticamente analizzare o tutto il listone, quindi vedere il trend di tutta la stagione addirittura. Se andiamo a compilare il file giornata per giornata, ci analizza praticamente tutto il trend di qualsiasi giocatore. Guardate qui, vogliamo vedere Acerbi. Ci analizza tutto il trend, ragazzi. È una figata pazzesca. Mettiamo delict, mettiamo delict. Ok, ci dice che non ha giocato alla quarta e poi ha avuto questo rendimento. Le ultime tre partite, qualcosa di illegale. Molto bene. Vogliamo analizzare, ad esempio, DeFrel che sta giocando ultimamente. Ci dice, DeFrel, ci dice praticamente qualsiasi giocatore. Questo perché seleziona tutto il listone completo. Se imposto invece solo la mia rosa, mi seleziona qui nel menu a tendina, che voi al momento non state vedendo, solo i miei giocatori. Io posso andare ad analizzare il trend dei miei giocatori. Capite? Una figata pazzesca. Non è finita qui perché, siccome questo file lo voglio utilizzare anche per i miei video, ho impostato altri due fogli. Top and flop, dove qui si possono inserire praticamente per ogni reparto vari giocatori. Vi darà anche il ruolo mantra. Questo sarà più utile praticamente per i video. Ok, però, comunque l'ho fatto inserire e soprattutto magari qui studio top and flop, per chi ad esempio ha fantacalcio al listone o altri magari deve fare degli scambi, può analizzare praticamente per ogni ruolo tutti praticamente i migliori giocatori. Ad esempio, vedete qui top 10, media voto, vi dice che Candreva è quello con la media voto migliore nelle ultime 5 giornate, 7.1. ok, il migliore top 10 per fantamedia sono Ibrahimovic, ovviamente senza considerare però il numero di partite giocate, è chiaro. Perciò Ibrahimovic può scendere Zeko, poi destro, Maldini e così via. Candreva comunque è tra i migliori per media voto e fantamedia, quindi tanta roba. Capite come funziona? Qui c'è l'elenco completo messo in ordine appunto di media voto, anzi di fantamedia, se non erro, potete praticamente vedere di tutto e di più e poi con la tabella accanto si possono magari prendere appunti, io lo utilizzerò come detto dopo i vari video. Potete anche applicare dei filtri, magari ad esempio applichiamo, non so, un filtro che so, attaccanti, ok, mi mette migliori solo per gli attaccanti, centrocampisti, gli analizza solo i centrocampisti, i difensori, i difensori, i portieri, solo portieri. Attenzione perché potete anche mettere il filtro per giornate giocate, ok, quindi mettete i portieri che hanno giocato solo 5 partite, ok, così togliete magari qualche giocatore che non ha magari già fatto solo una prestazione tipo perché era secondo portiere, stesso discorso per gli attaccanti, quelli che hanno giocato 5 partite e così via, ma potete anche mettere il filtro per il mantra, quindi potete mettere non so, solo le pc, se volete analizzare solo le pc mettete pc, ok, insomma, ci siamo capiti, ci siamo capiti, il video sarà durato tanto, ma questo file lo meritava, avete visto tutto il lavoro che c'è dietro, ragazzi, potete, penso, immaginarlo, e tanta tanta roba, vi spiegherò poi nelle live come utilizzarlo al meglio, lo utilizzerei io stesso in qualche video, mi spiegherò un po' meglio nel dettaglio, questa era un'introduzione, ok, un video tutorial, come detto, tra l'altro anche qui, ad esempio, in questi fogli, funzionano in questo modo, inseriamo ad esempio SiriQ, ok, i altri dati ci appaiono direttamente, quindi non c'è bisogno che andiamo a compilare il tutto, semplicemente inseriamo un nome e lui ci va a estrapolare tutti i dati su quel giocatore, ne vedremo delle belle, ci saranno dei video analisi, ragazzi, tramite questo file pazzesche, pazzesche, quindi, delle analisi complete, ok, detto ciò ragazzi, io che direi, vi auguro veramente di poterlo spulciare, di poterlo utilizzare e di sfruttare meglio, anzi, se avete dei suggerimenti, fatelo, ok, cercheremo di migliorare soprattutto questa sezione, quella della formazione, tra virgolette, consigliata, la miglioreremo, anche se vi ho detto, ragazzi, non va tenuta in considerazione, visto che non tiene conto delle partite, degli scontri che vanno quei giocatori, quindi, non è che dovrete scherare con la formazione, però vi dice, super giù, che quei giocatori, in base a come hanno reso in quella giornata, dovrebbero avere questo range di rendimento, ok, se si comportano, come si sono resi, come si sono comportati nelle ultime 5 giornate, avrete quel totale, ok, questo è il ragionamento, però voi, ovviamente, lo dovrete utilizzare per i vostri, magari, ballottaggi, chiaro? chiaro? detto ciò, ragazzi, io sono veramente entusiasta, il video è durato un bel po', ma ci voleva, ci voleva, probabilmente vediamo se riuscirò a fare una live già stasera a riguardo, altrimenti, nei prossimi giorni, ci saranno diversi contenuti, come detto, già su questo file, se volete utilizzarlo, lo trovate, appunto, su tipi, ok, link in descrizione, tra i primi link, cioè appunto, sostemi su tipi, su fate un tip, almeno a livello ZAIC, e sbloccherete praticamente tutti i file a vostra disposizione, va bene? detto ciò, io vi auguro buono studio, ringrazio ancora Mattia e Smilo per il loro lavoro dietro le quinte, mi hanno dato una mano, poi li porteremo in caso in live, faremo una live insieme a loro, così ne parliamo nello specifico, e vediamo anche di studiare ancora delle migliorie, ok? Un abbraccio, da Carmi, e avviva! Il Fanta Calcio, ciao!